Oliver Hardy, nato Norvell Hardy il 18 gennaio 1892 a Harlem, Georgia, è figlio di Oliver, veterano dell'esercito degli stati confederati durante la guerra civile americana, ferito nella battaglia di Antitam il 17 settembre 1862 e fu ufficiale reclutatore per la compagnia K, sede di siti reggimento della Georgia. Il padre di Oliver assistette il suo genitore nel gestire i resti della piantagione di cotone di famiglia. Successivamente acquistò una quota in un'attività commerciale e fu eletto riscossore delle tasse a tempo pieno per la contea di Columbia, Georgia. La madre di Hardy, Emily Norvell, era figlia di Thomas Benjamin Norvell, discendente di Hugh Norvell di Williamsburg, Virginia, e Mary Freeman. I genitori di Oliver Hardy si sposarono il 12 marzo 1890, fu il secondo matrimonio di lei e il terzo di lui. La famiglia si trasferì a Madison, Georgia, nel 1891, l'anno prima della nascita di Norvell. Probabilmente è nato a Harlem, anche se alcune fonti sostengono che la nascita sia avvenuta a Covington, in Georgia, città natale della madre. Suo padre morì meno di un anno dopo la sua nascita. Hardy era il più giovane di cinque figli. Il fratello maggiore, Sam, annegò nell'Oconi River. Hardy lo tirò fuori dal fiume, ma non riuscì a rianimarlo. Da bambino, Hardy era talvolta difficile. Al quinto anno venne mandato al Georgia Military College a Milledgeville. Nel 1905, all'età di 13 anni, fu mandato al Young Harris College nel nord della Georgia per il semestre autunnale, che completò con successo nel gennaio 1906. Tuttavia frequentava ancora il corso di scuola media di quell'istituzione, che oggi è noto come un'accademia. In quel periodo non esistevano i due anni di college junior. Aveva scarso interesse per l'istruzione formale, sebbene sviluppasse un precoce interesse per la musica e il teatro. Si unì a un gruppo teatrale e in seguito scappò da una scuola interna vicino ad Atlanta per cantare con il gruppo. Sua madre riconobbe il suo talento per il canto e lo mandò ad Atlanta per studiare musica e canto con l'insegnante di canto Adolf Dan Pettersen. Saltava alcune delle sue lezioni per cantare nell'Alcazart Theater per tre pot 50 settimana. Nel 1912 si iscrisse a uno o due corsi presso l'Università della Georgia come specializzazione in legge per il semestre autunnale solo per giocare a football. Non perse mai una partita. Da adolescente, Hardy iniziò a farsi chiamare Oliver Norvell Hardy, aggiungendo il nome Oliver come omaggio al padre. Apparve come Oliver N. Hardy nel censimento statunitense del 1910 e utilizzò Oliver come suo primo nome in tutti i successivi documenti legali, annunci di matrimonio, ecc. Hardy fu iniziato nella massoneria presso la Solomon Lodge No. 20 a Jacksonville, Florida, che lo aiutò con vitto e alloggio quando stava iniziando nella carriera artistica. Fu accolto nel Grand Order of Water Rats insieme a Stan Laurel. Nel 1910 The Palace, un cinema, aprì nella città natale di Hardy, Milledgeville, e lui divenne il proiezionista, l'addetto alla vendita dei biglietti, il custode e il manager. Presto divenne ossessionato dalla nuova industria cinematografica e fu convinto di poter fare un lavoro migliore degli attori che vedeva sullo schermo. Un amico gli suggerì di trasferirsi a Jacksonville, Florida, dove si stavano girando alcuni film, e così fece nel 1913. Lavorò a Jacksonville come cantante di cabaret e vaudeville di notte e presso la Lubin Manufacturing Company durante il giorno. Fu in questo periodo che incontrò Madeline Saloshin, una pianista, con cui si sposò il 17 novembre 1913 a Macon, in Georgia. L'anno successivo fece il suo primo film, Outwitting Dead, 1914, per lo studio Lubin, accreditato come O.N. Hardy. Nella sua vita personale era conosciuto come Babe Hardy e fu accreditato come Babe Hardy in molti dei suoi successivi film alla Lubin, come Back to the Farm. 1914. Era un uomo grande, alto sei piedi un pollice, circa uno via l'85, e pesava fino a 300 libre, circa 136 kilowatt, e le sue dimensioni limitavano i ruoli che poteva interpretare. Veniva più spesso scelto per interpretare il cattivo, ma aveva anche ruoli in cortometraggi comici, le sue dimensioni completavano il personaggio. Entro il 1915 Hardy aveva realizzato 50 cortometraggi di un rullo alla Lubin. Si trasferì a New York e girò film per Patè, Casino ed Edison Studios. Tornò a Jacksonville, dove girò film per la Vim Comedy Company. Quello studio chiuse dopo che Hardy scoprì che i proprietari stavano rubando dalla busta paga. Lavorò quindi per lo studio King B, che acquistò la Vim, e lavorò con Billy Rouge, Billy West, un imitatore di Charlie Chaplin, e l'attrice comica Ethel Barton Palmer. Continuò a interpretare i cattivi per West fino ai primi anni venti, imitando spesso Eric Campbell accanto al Chaplin di West. Tra il 1916 e il 1917 Hardy ebbe una breve carriera da regista. È accreditato per la regia o la co-regia di dieci cortometraggi, tutti interpretati da lui. Nel 1917 Hardy si trasferì a Los Angeles, lavorando come freelance per diversi studi cinematografici di Hollywood. Ha realizzato più di 40 film per la Vitagraph, tra il 1918 e il 1923, interpretando principalmente il cattivo per Larry Simon. Nel 1919 si separò dalla moglie, mettendo fine al matrimonio con un divorzio provvisorio nel novembre 1920, che fu finalizzato il 17 novembre 1921. Il 24 novembre 1921 sposò l'attrice Myrtle Reeves. Anche questo matrimonio fu infelice e si dice che Reeves sia diventata alcolizzata. Nel 1921 apparve nel film The Lucky Dog, prodotto da Bronco Billy Anderson e interpretato da Stan Laurel. Hardy interpretò il ruolo di un ladro che cercava di rapinare il personaggio di Stan. Non lavorarono di nuovo insieme per diversi anni. Nel 1924 Hardy iniziò a lavorare agli Hal Roach Studios con i film della serie Our Gang e Charlie Chase. Nel 1925 interpretò L'uomo di latta nel Mago di Oz. Sempre nello stesso anno fu nel film Yes, Yes, Nanette, con protagonista Jimmy Finlayson e diretto da Stan Laurel. Negli anni successivi Finlayson fu spesso un attore di supporto nella serie di film di Laurel e Hardy. Continuò anche a interpretare ruoli di supporto nei film con Clyde Cook e Bobby Ray. Hardy apparve in altri due cortometraggi diretti da Laurel, Wandering Papas e Madame Mystery, entrambi nel 1926. Hardy ebbe un ruolo di supporto in Isn't Life Terrible? 1925 con Charlie Chase e Katherine Grant. Nel 1926 Hardy doveva apparire in Get Him Young ma fu ricoverato in ospedale in modo imprevisto dopo essere stato bruciato da un cosciotto d'agnello bollente. Laurel stava lavorando come ideatore di gag e regista agli Hal Roach Studios quindi fu reclutato per sostituirlo. Laurel continuò ad agire e apparve in 45 minuti da Hollywood con Hardy anche se non condivisero alcuna scena insieme. Nel 1927 Laurel e Hardy iniziarono a condividere il tempo sullo schermo in Sleeping Wives, Duck Soup, senza relazione con il film dei fratelli Marx del 1933 e With Love and Hisses. Il direttore di supervisione degli Hal Roach Studios, Leo McCary, riconobbe la reazione del pubblico ai due e cominciò ad unirli, dando così inizio a una serie di film di Laurel e Hardy più tardi quell'anno. Iniziarono a produrre una vasta serie di cortometraggi tra cui La Battaglia del Secolo, 1927, con una delle più grandi lotte di torte mai filmate. Should Married Men Go Home? 1928, Due Marinai? 1928, Non Abituati Come Siamo? 1929, segnando la loro transizione ai film parlati, Passeggeri in Fuga? 1929, Beviamoci Su? 1930, La Legge e Legge? 1930, Ancora Guai? 1930, Bigger and Better? 1931 e molti altri. Nel 1929 apparvero nel loro primo lungometraggio in una delle sequenze di rivista di Hollywood Review of 1929 e l'anno successivo apparvero come il tocco comico in un lussuoso film musicale a Technicolor intitolato Il Canto del Bandito. Questo film segnò la loro prima apparizione a colori, ma solo alcuni frammenti di questo film sono sopravvissuti. Nel 1931 furono protagonisti del loro primo film completo Pardon Us e continuarono a realizzare lungometraggi e cortometraggi fino al 1935. Il film del 1932 la scala musicale vinse un premio Oscar per il miglior cortometraggio, il loro unico sforzo a ricevere un tale riconoscimento. Nel 1937 Hardy e Myrtle Reeves divorziarono. Nel 1939, mentre aspettava che una questione contrattuale venisse risolta tra Laurel e Hal Roach, girò Zenobia con Harry Langdon. Alla fine, però, vennero concordati nuovi contratti e la coppia fu prestata al produttore Boris Morris presso i General Service Studios per realizzare The Flying Deuces 1939. Mentre era sul set, Hardy si innamorò di Virginia Lucille Jones, una script girl, che sposò l'anno successivo. Godettero di un matrimonio felice per il resto della sua vita. Nel 1939, Laurel e Hardy realizzarono A Champ at Oxford e Sape's at Sea prima di lasciare gli Hal Roach Studios. Iniziarono a esibirsi per la uso, sostenendo le truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941, Laurel e Hardy furono ingaggiati dalla 20th Century Fox, così come dalla Metro-Goldwyn-Mayer nel 1942. Questi studi producevano film su larga scala e, inizialmente, i comici furono assunti solo come attori nella divisione dei film di serie B, costretti a cedere le decisioni di scrittura e montaggio alle squadre di produzione. I film si rivelarono molto di successo e, gradualmente, sia Laurel che Hardy ottennero maggiori input creativi. Laurel e Hardy completarono otto lungometraggi durante gli anni della guerra, senza perdere popolarità. Il contratto per due film della MGM scadde nell'agosto del 1944 e la serie di sei film di Laurel e Hardy della Fox si concluse quando lo studio interruppe la produzione dei film di serie B nel dicembre 1944. Nel 1947, Laurel e Hardy intrapresero un tour di sei settimane nel Regno Unito. Inizialmente erano incerti su come sarebbero stati accolti, ma ovunque andassero venivano assediati dai fan. Il tour fu prolungato per includere spettacoli in Scandinavia, Belgio, Francia e una Royal Command performance per il re Giorgio VI e la regina Elisabetta. Il biografo John McCabe scrive che continuarono a fare apparizioni dal vivo nel Regno Unito e in Francia fino al 1954, spesso usando nuovi sketch e materiale scritto da Laurel per loro. Nel 1949, l'amico di Hardy, John Wayne, lo invitò a interpretare un ruolo di supporto in The Fighting Kentuckian. Hardy aveva già lavorato con Wayne e John Ford in una produzione benefica dello spettacolo What Price Glory, mentre Laurel aveva iniziato il trattamento per il diabete alcuni anni prima. Inizialmente esitante, accettò il ruolo su insistenza di Laurel. Frank Capra lo invitò a interpretare un piccolo ruolo cameo in Riding High con Bing Crosby nel 1950. Durante il 1950-1951, Laurel e Hardy realizzarono il loro ultimo film, Atol K, noto anche come Utopia. Era un concetto semplice. Laurel eredita un'isola e i ragazzi si mettono in mare dove incontrano una tempesta e scoprono una nuova isola ricca di uranio che li rende potenti e ricchi. Tuttavia, il film fu prodotto da un consorzio di interessi europei, con un cast e una troupe internazionali che non potevano comunicare tra loro. Inoltre, Laurel dovette riscrivere la sceneggiatura per adattarla allo stile della coppia comica e entrambi soffrirono di gravi malattie fisiche durante le riprese. Laurel e Hardy fecero due apparizioni televisive dal vivo, nel 1953 in una trasmissione dal vivo dello show BBC Face the Music e nel dicembre 1954 su This is Your Life della NBC. Apparvero anche in un inserto filmato per lo show BBC This is Music Hall nel 1955, la loro ultima apparizione insieme. La coppia stipulò un contratto con Hal Roach Jr. per produrre una serie di programmi TV basati sulle fiabe di madre natura nel 1955. Secondo il biografo John McCabe dovevano essere filmati a colori per la NBC, ma la serie fu posticipata quando Laurel ebbe un ictus e necessitò di una lunga convalescenza. Più tardi quello stesso anno, mentre Laurel si stava riprendendo, Hardy ebbe un attacco di cuore e un ictus dal quale non si riprese mai. Nel maggio del 1954 Hardy ebbe un lieve attacco di cuore e iniziò a prendersi cura della sua salute per la prima volta nella sua vita. Perse più di 150 libre, circa 68 chilo in pochi mesi, cambiando completamente il suo aspetto. Lettere scritte da Laurel parlano del fatto che Hardy avesse un cancro terminale e si ipotizzò che questa fosse la ragione della sua rapida perdita di peso. Entrambi gli uomini erano fumatori. Hal Roach disse che erano come un paio di ciminieri di treni merci. Hardy ebbe un grave ictus il 14 settembre 1956 che lo lasciò costretto a letto e incapace di parlare per diversi mesi. Rimase a casa sotto le cure della moglie Lucille. Dopo altri due ictus all'inizio di agosto del 1957 cadde in coma e morì per trombosi cerebrale il 7 agosto 1957, all'età di 65 anni. Dopo essere stato cremato, le sue ceneri furono sepolte nel giardino massonico del Valhalla Memorial Park Cemetery a North Hollywood. Laurel fu inconsolabile per la perdita del suo caro amico e partner. Il suo medico consigliò a Laurel di non partecipare al funerale a causa della sua cattiva salute e Laurel disse che Babe avrebbe capito. La stella di Hardy sulla Hollywood Walk of Fame si trova al 1500 di Vine Street, Hollywood, California. Laurel e Hardy sono stati ammessi nel Grand Order of Water Rats. A Harlem, in Georgia, città natale di Hardy, c'è un piccolo museo dedicato a Laurel e Hardy, inaugurato il 15 luglio 2002. La città tiene annualmente il festival di Oliver Hardy. Il film biografico Stan & Ollie, 2018, ha visto Steve Coogan nel ruolo di Laurel e John C. Reilly in quello di Hardy.